Eccoci qua con Giovanni Daniele, best player della partita New Team contro Udinese. Abbiamo anche ancora un po' provato dalla prestazione, dal sacrificio. Cos'è da dire Giovanni sulla prestazione e su questo riconoscimento importante? È stata una prestazione giocata su un livello importantissimo. Siamo stati bravi a capire l'avversario come si muoveva in mezzo al campo. Poi abbiamo preso le misure, ad un certo punto della partita abbiamo iniziato a fare gol in contropi. Abbiamo visto anche un grandissimo gol tuo. Ne hai fatto più di uno, giusto? Sì, no, uno solo. Stasera uno solo, un grande gol. Dalla distanza un bel tiro. Tu che ce l'hai questa coordinazione, non provi spesso il tiro se più addetto a giocare nel cerchio di centrocampo? Sì, più che altro è stata una partita di sacrificio, la mia. Però ogni tanto quando c'è la possibilità di andare avanti andiamo con i compagni che mi fanno segnare. Giosafatto, lo dedico a lui questo gol perché è il secondo assist che mi fa consecutivo e quindi... Ringraziamo quindi Gigi Giosafatto. Grande Gigi, grande Gigi. E in particolare in chiusura di intervista qualche dedica particolare a qualche persona importante per te? È la persona più importante come la mia ragazza, ciao Meri, ti amo, dalla grande. Salutiamo Meri, quindi complimenti Giovanni, ciao ragazzi, in bocca al lupo, alla prossima, ciao.